Combattere la mafia significa anche restituire gli spazi pubblici alla città e ai cittadini. Buongiorno, parlo a nome della Svope, un'associazione di volontariato che opera nelle carceri. Il nostro lavoro è volto a migliorare la situazione dei carcerati nella speranza di contribuire con il loro recupero alla lotta contro la mafia. Grazie. Palermo è una città bellissima. Non continuiamo a renderla più brutta e a sprecare tutto quello che abbiamo perché non abbiamo il coraggio, non abbiamo la forza di dire no alla mafia. Sosteniamo a Dio Pizzo, sosteniamo le associazioni come Libera che contribuiscono ogni giorno dal basso, dal loro piccolo, a rendere questa terra migliore perché appunto Palermo e la Sicilia sono terre bellissime. Un popolo che non paga il pizzo alla mafia è un popolo libero, ricordatevelo. Ho visto il film di Pif l'altro giorno che mi ha fatto piangere e ci vuole coraggio per cambiare questa società. Bravi a Dio Pizzo. Per un futuro più libero, Dio Pizzo. Pagare il Pizzo rende impotenti. Io pago l'os che non pagano. Je paie se chi ne paie paga. I pay who doesn't pay. Pago chi non paga. Perché l'antimafia è internazionale. Pagare il Pizzo rende impotenti. Pagare il Pizzo rende impotenti. Grazie a tutti.